Ciao, sono Massimiliano Guitosi, capitano della Fusion, ho 34 anni. In campo sono la punta boa della Fusion, mentre fuori dal campo sono un ingegnere. Allora, ho cominciato a giocare a pallone a 9 anni, trascinato da un papà ad un amichetto di scuola, che mi ha portato nella squadra del quartiere Il Corvetto. Ho fatto i 7 anni, ho deciso di andare a Linate, provare a sfondare, dicevano una promozione. Finché, un bel giorno, ho deciso di smettere, di cominciare a giocare a calcetto. Ne eravamo il Boro 700, con il Tropico Latino, e dalla Fusion, da dove nasce la Fusion. Facciamo il nostro primo torneo, lo vinciamo, e da lì 7 anni di zona gol, con discreti successi. Il calcio a 5 è vero e proprio e professionistico, è un'altra cosa. Noi diciamo che facciamo un po' la caricatura, ma il calcio a 5 è vero. E quindi, passando dall'11 al 5, riesci comunque a fare le tue giocate, metterci un po' più di corsa, cosa che il calcio a 5 è vero e proprio e più tattico, ti negherà un po' più. La Fusion si basa, diciamo, su tre moschettieri più d'Artagnan. I tre moschettieri sono Federico, Francesco e Matteo. Oggi gol numero 200, su altre tante partite. 200-5. Come punto debole, oramai la tritticità, la velocità, una mole così importante, è difficile essere veloci. Mentre come punti forti, ad oggi, credo, l'attaticismo saprà stare in campo, quindi vedere sempre il compagno smarcato. Il calcio, ti faccio un esempio, la mia vita, la mia settimana, era così scandita. Il lunedì facevo il torneo di calcetto con gli amici, prima della Fusion, il martedì gli allenamenti. Il giovedì allenamenti, venerdì altra partita con gli amici, la domenica la partita di campionato. Quindi questo è per far capire quanto era importante il calcio. Nella mia vita ho avuto solo il momento di stop dal calcio a 11, diciamo, nel quale ho detto, basta, è finita, smettiamo. Poi, però la foglia, il calcio ti prende sempre quando non hai più voglia di giocare. È la fine. Ho l'abbonamento, seguo la mia squadra di cuore, non farò il nome, e lo seguo sempre. E forse ho un piccolo sogno di riuscire a giocare con mio figlio, un torneo del genere, quindi dovrò aspettare a tre anni, lui, almeno una decina, almeno, per giocare con lui. Va come momento calcistico, un problema di rita sicuramente le finali di Champions League a Roma, nel 96, e successivamente la Coppa Intercontinentale. Il calcio giocato? Beh, per la Fusion, ricordo, il primo anno di zona gol. Purtroppo sfiorammo la vittoria sia nel campionato invernale e all'epoca c'era il campionato estivo e anche lì arriviamo in semifinale, purtroppo. Sempre con la Fusion, la vittoria in finale con il tenuto a carretta. Ricordo che mi ero infortunato anche lì, stranamente. Rientro, doppietta e vinciamo poi la finale ai rigori, il finale del campionato di apertura. Il prodotto Fusion, secondo me, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, nel senso che, prima di tutto, siamo una squadra di amici e con comunque questo materiale umano siamo riusciti sempre a portare a casa dei buoni risultati. Il calcio per me è tanto. Comunque è stato un padre, nel senso che mi ha dato anche molti insegnamenti di vita, che ti porta a vivere in un determinato modo, ti dà anche dei valori che ti possono servire nella vita. Un saluto a tutti gli amici, tutti i ragazzi che hanno fino ad oggi giocato nella Fusion, anche chi non ha giocato, tutti quelli che conoscono. Ciao!